E' l'ennesimo tentativo per cercare di fermare la crescita senza fine dei contagi. La razio, spingere gli italiani che non si sono ancora vaccinati a farlo intervenendo sulle classi di età che sono più a rischio di ospedalizzazione. Riepilogando, dal 15 febbraio, super green pass obbligatorio per i lavoratori pubblici e privati che hanno compiuto 50 anni. Niente stipendio, ma conservazione del posto di lavoro per gli over 50 che si presenteranno al lavoro senza super green pass. Tutte le imprese potranno sostituire i lavoratori sospesi perché sprovvisti di certificazione verde. La sostituzione rimane di 10 giorni, rinnovabili sino al 31 marzo 2022. L'accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti vaccino o guarigione vietato e chi non rispetta il divieto subirà una sanzione amministrativa tra 600 e 1.500 euro. Sino al 31 marzo 2022, green pass base, quello che si ottiene anche con il tampone, oltre che per vaccino o guarigione, per accedere ai servizi alla persona, come il parrucchiere, ma anche per pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali. L'obbligo di green pass per i servizi alla persona, parrucchieri, centri estetici varrà dal 20 gennaio, mentre per le altre attività dal 1 febbraio, previa adozione di un DPCM che individuerà le attività escluse dall'obbligo. Sonia, capo di casa, confartigianato, estetica pescara. È una misura che vi aspettavate o siete rimasti sorpresi? No, in realtà ce l'aspettavamo, era un provvedimento che era già nell'aria. Secondo me inciderà relativamente sulla nostra clientela perché la gran parte di essa è vaccinata, però ovviamente per quella piccola parte di clienti che comunque non ha effettuato il vaccino, sicuramente loro dovranno affrontare un costo ulteriore oltre al nostro e quindi magari ci penseranno due volte prima di andare dall'estetista. C'è anche l'incombenza, chiamiamola così, del controllo. Sì, certo, dovremmo controllare appunto il green pass con un'applicazione a tutta la clientela. Sarà un ulteriore lavoro per noi. Assumerai una persona che controllerà? Sì, è possibile. Un ulteriore costo? Esatto, sì. Ci sono anche dei clienti non vaccinati, immaginiamo, no? Sì, una minima parte, però sì, qualcuno c'è. Io credo che con queste nuove restrizioni molti si faranno il vaccino. Qualcuno ha già fatto sapere che non si vaccinerà? Sì, qualcuno sì, ci ha già fatto sapere e si è prenotato prima appunto del 20 gennaio.